Musica Momenti di alta tensione stamattina durante uno sgombero alle casette di legno. Musica Nuova visita del ministro Maurizio Lupi al porto di Civitavecchia al capo del di Castello dei Trasporti e eroggiato la crescita dello scalo. Bacheca scende in campo a sostegno del castello di Santa Severa. Musica Calcio a tre giorni del termine dell'ultimo per la iscrizione al campionato di eccellenza c'è più di un barlume di speranza per il Civitavecchia a calcio. Musica La polizia locale stava eseguendo lo sgombero di un abusivo quando un uomo si è scagliato contro i vigili con un cacciavite in mano e l'uomo che doveva essere sfrattato si è scomparso di benzina minacciando di darsi fuoco ma sentiamo i dettagli in questo servizio. Operazione di servizio della polizia locale atta a contrastare l'occupazione abusiva di appartamenti popolari. Gli agenti nella tarda mattinata di oggi si sono presentati a San Liborio dove sorge il villaggio della solidarietà per sgomberare una delle casette di legno occupata in maniera impropria da un Civitavecchiese. La situazione sembrava tranquilla tanto che i vigili stavano notificando il provvedimento all'uomo quando improvvisamente un vicino di casa, un Civitavecchiese di 42 anni, ha perso la testa e con una punta di trapano ha tentato di aggredire gli agenti. Una violenta colluttazione, poi gli uomini del comando di via Bracianese Claudia sono riusciti a bloccare l'uomo che è stato arrestato e tradotto presso il reparto di polizia locale di Civitavecchia, prevista per domani la direttissima. Proprio l'uomo colpito dall'ordinanza di sgombero della casetta di legno abusivamente occupata ha richiamato l'attenzione degli agenti versandosi addosso un liquido infiammabile. Anche in questo caso i vigili sono riusciti a bloccarlo e a scongiurare conseguenze drammatiche, a raccontare il tutto la moglie dell'uomo. Mi hanno fatto uscire con l'inganno da casa, con la scusa di riterare il verbale, mi hanno detto vieni giù che il comandante ti vuole parlare, io mi sono spostata, vieni giù specificamente con i miei figli. Io ho un minore di tre mesi e un'altra di quattro. E nel mentre che stavo scendendo giù, praticamente mi hanno detto hanno disposto il sequestro, ci sono i carabinieri davanti a casa tua. Come sono arrivata non mi hanno voluto far entrare, io mio figlio premetto il latte artificiale e dove lo faccio sto latte? Mio figlio doveva mangiare, lui si è dovuto buttare la danica di benzina, cioè questa è la vergogna. E' una vergogna, è una vergogna perché comunque sia nei confronti dei due minorenni, mia figlia si è messa a piangere, mio figlio lo stava entrando, è stato strattonato, stava nell'ovetto, cioè da un vigile urbano. Che cosa vi hanno detto da parte del comune, gli assistenti sociali, che cosa vi hanno promesso o qualcosa? Che ora si troverà una soluzione, per lunedì mattina mi auguro, perché comunque qui ci sono persone che hanno occupato come me da tanto magari, però è toccato proprio a me, ma non nei confronti loro. Cercava di rientrare in Italia con un diverso nome il cittadino tunisino che mercoledì 11 luglio è sbarcato dal traghetto proveniente da Tunisi, ma l'espediente di inserirsi nella lista dei passeggeri con un falso nome non gli è servito a nulla. In seguito ad accurati controlli effettuati dal personale della polizia di frontiera di Civitavecchia, è emerso che lo straniero era ricercato dalla procura di Trapani per essersi sottratto al carcere e all'espiazione di una pena di 5 mesi e 10 giorni per violazione della legge sulla salvaguardia della fauna e per maltrattamento agli animali aggravato dalla continuazione. È quindi scattato l'arresto e l'accompagnamento presso la casa circondariale Aurelia di Civitavecchia. Il porto di Civitavecchia è un esempio da imitare sia per la velocità delle opere che per la trasparenza e la sicurezza con cui si portano avanti. Questo è il messaggio lanciato nel pomeriggio all'autorità portuale dal ministro Maurizio Lupi. Come sentiamo in questo servizio? Il porto di Civitavecchia è un esempio positivo da seguire per la realizzazione di opere pubbliche in grado di rilanciare l'economia del paese e tempi brevi per finanziare lo sviluppo del porto di Civitavecchia e quindi la piastra logistica laziale. Questo è l'impegno assunto oggi dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi in occasione di un incontro con il presidente dell'autorità portuale Pasqualino Monti. In una sala convegni dell'autori di Gremita e della presenza tra gli altri del comandante generale delle Capitanerie di Porto, ammiraglio Felicio Angrisano e del sindaco Pietro Tidea, il ministro Lupi ha elogiato la crescita dello scalo, assicurando l'impegno del governo sia per il completamento della Civitavecchia Orte che per l'inserimento dello scalo nel prossimo semestre di presidenza italiana a Bruxelles nel Core Network. L'intervento del ministro Lupi che per impegni istituzionali non aveva potuto presenziare alla due giorni del Mediterraneo e che aveva promesso una visita non appena possibile è arrivato al termine della proiezione del filmato su Civitavecchia Porta del Mediterraneo e dopo un breve discorso del presidente di Molo Vespucci Pasqualino Monti che ha ricevuto risposte concrete alle sue richieste per far crescere ancora il porto e battere così la concorrenza di altri scali europei. Ma sentiamo come è andata in queste interviste rilasciate al termine dell'incontro dalla ministro Lupi e dal presidente Monti. Lei già aveva detto venendo a Civitavecchia che questo porto era un'eccellenza, dopo aver visto il video confermo e raddoppio? Confermo e raddoppio, in particolare confermo e raddoppio l'idea che il sistema portuale italiano è un'eccellenza del nostro paese ed è uno dei motori della rinascita e della crescita. Dobbiamo prendere buoni esempi e questo mi sembra un buon esempio sia per quanto riguarda la modalità di effettuare i lavori, la legalità, la trasparenza e anche per quanto riguarda invece la capacità di mettere e di fare sistema. Io credo che in Italia se andiamo avanti su questa strada ce la possiamo fare. Nuova visita del ministro, gli elogio al porto ma soprattutto garanzie per una mano del governo per l'inserimento del Cornetwork? Sì, lo ringrazio innanzitutto perché ci ha onorato nuovamente la sua presenza ma poi pragmaticamente come sono abituato a ragionare noi abbiamo oggi, nella giornata di oggi, abbiamo fatto due richieste al ministero. La prima di essere inseriti all'elenco infrastrutture, quindi la nostra piattaforma di inserire all'elenco infrastrutture lui ha risposto che lo farà e stiamo già lavorando con la struttura tecnica di missione per farlo e la seconda è quella di inserire con il semestre di presidenza italiana nella comunità europea il porto di Civitavecchia e il porto di Fiumicino, quali porti di Roma, nel Cornetwork e anche su questo abbiamo preso il suo impegno e sono convinto che con il governo andrà avanti in questa direzione. Il mercato sta cambiando, sta mutando, le navi diventano sempre più grandi, in cantiere non ci sono più navi piccole sono solo navi grandi, noi siamo l'unica realtà nel contesto del paese che ha le caratteristiche geofisiche per ospitare queste grandi navi. O ci adeguiamo e lo facciamo in tempi stretti oppure come io amo dire il mercato purtroppo non fa feriti, miate solo vittime. Si è tenuta ieri pomeriggio nella sala conferenze dell'autorità portuale una conferenza a favore dei frequentatori del Master, universitario di secondo livello in Homeland Security. Dopo i saluti e ringraziamenti del professor Seto, la direttore del Master, è intervenuto il capitano di Corvetta Francesco Scala della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, che ha trattato la materia della security marittima e portuale analizzando sia gli aspetti giuridici che le misure adottate in ambito nazionale. A Città Pulita si cambia rotta, illustrati dal sindaco Tidei, dall'Iguidatore Valentini, se le modifiche apportate all'interno della partecipata. Sentiamo le interviste. Cambio di rotta all'interno di Città Pulita, riduzione dei preposti da 26 a 7 con il ritorno in strada di 19 dipendenti e ancora fusione delle officine di Argo e Città Pulita e una riduzione delle perdite a 1.700.000 euro, che già nel 2014 potrebbero diventare meno di un milione. Questo è il quadro presentato dal sindaco Pietro Tidei e dal liquidatore della SOT Svevo Valentinis e questa volta, a finire nel mirino del primo cittadino, sono proprio i Civitavecchiesi. C'è gente a tuonato Tidei che fa dei posti dove non c'è niente delle vere e proprie discariche, un malcostume che rende difficile la vita degli operai di Città Pulita. Intanto, ad arrivare il loro soccorso dal 22 luglio, saranno 26 borsisti individuati dall'assessorata ai servizi sociali. Ha attivato anche un progetto pilota a San Liborio. Abbiamo individuato, ha spiegato Tidei, dei giovani per la realizzazione di una cooperativa. Sono loro che dovranno occuparsi della pulizia del proprio quartiere. Se il progetto dovesse funzionare, sarà esteso a tutta la città. Intanto, il 31 ottobre, le due SOT, Argo e Città Pulita, saranno definitivamente liquidate. Sicuramente subentrerà un privato. Dobbiamo decidere soltanto la quantità del privato. Dovamo pensare all'80%. Probabilmente, visto che i costi di gestione stanno migliorando, potremmo ridurre la partecipazione del privato ulteriormente. Però questo è un problema che lo vedremo soltanto a ottobre, quando il 31 ottobre dovremo dar corso ad una nuova società, che non si chiederà mai più l'HCS o ci vecchie infrastrutture, ma ci sarà un'unica società, quindi con un solo Consiglio di Amministrazione, che praticamente diventeranno proprietari sia di Ippocrate, sia di Argo, sia di Città Pulita, in modo da che allora in quel momento, con i conti alla mano, vedremo quanti risparmi effettivamente abbiamo fatto, quanto debito abbiamo ridotto e quanta necessità di capitale esterno avremo. Solo in quella sede sapremo quanta percentuale di società mettere in vendita. E allo stesso tempo l'amministrazione comunale continua a difendere la propria decisione di affidare al pluripremiato pugile locale Silvio Branco il compito di verificare la qualità del servizio e intrattenere rapporti interpersonali con i civitavecchiesi. A difendere il pugile dagli attacchi ricevuti in questi giorni sia dai civitavecchiesi che dai sindacati è proprio il liquidatore della partecipata Svevo Valentinis. Diciamo che anche in questo caso, ribadisco, che la scelta, indipendentemente, adesso nome e cognome poco importante, la scelta della qualità come controllo, come attività, deve essere esterna. Perché al nostro interno è il rischio, ed è il rischio certo, che le cose non si dicano. Allora, Silvio Branco è stata una scelta legata alla notorietà del personaggio il quale viene fermato, gli viene anche detto guarda qua è sporco, che forse io l'operatore oggi non l'ha pulito bene e piuttosto che altre problematiche di città pulita. Ogni giorno io ricevo un report, quindi mi arriva un bel mail, mi chiama quasi tutti i giorni dicendo anche quello che lui vede e percepisce dai cittadini, quindi non soltanto lo scritto, viene girato alle persone che sono referenti, chi per la raccolta, chi per lo spazzamento, chi per altre attività di verde e loro devono intervenire entro pochi giorni. È morto il dottor Luigi Tarantino, il medico era conosciuto da tutti e a Civitavecchia ha visto che ha creato il centro diagnostico Buonarroti, dove peraltro è stata vestita la camera ardente che è stata aperta questo pomeriggio alle 17 fino alle 20 e poi domani dalle 8 alle 10 i funerali invece avranno luogo domani alle 11 nella chiesa Sacra Famiglia di Via Buonarroti. All'Arena Pincio torna il cinema, obiettivo animare e riempire le serate estive dei Civitavecchiesi, ma sentiamo i particolari nelle nostre interviste. Dopo esaggi di danza al Via all'Arena Pincio con la rassegna cinematografica. Sì, noi abbiamo fatto di tutto per riuscire a coprire tutto il periodo estivo da giugno a settembre, quindi finita la chermessa di danza adesso cominciamo con il cinema, visto il successo che c'è stato l'anno scorso e non è finita qua perché dopo il cinema ci saranno le compagnie teatrali che potranno usufruire nel mese di settembre dell'Arena Pincio. Ecco, un programma vasso soprattutto per attirare giovani e riprendere quel filo conduttore che unisce le varie generazioni. Assolutamente, c'è un ritorno ai grandi film, ci sono film come ad esempio il Grande Ghesby che comunque si hanno attirato un pubblico giovanile e una cosa molto interessante è che appunto c'è anche un confronto tra il pubblico giovanile e i meno giovani sulla bellezza di questo film o meno. Un cartellone cinematografico molto vasto, si parte sabato prossimo, costo del biglietto 5 euro aperto a tutti? Assolutamente sì, insomma la scommessa è un po' questa come l'altro anno, visto il successo dell'altro anno la scommessa è quella di fare una programmazione molto ampia che prenda pubblici diversi e soprattutto che dia un'immagine del cinema più spettacolare possibile. Cioè il cinema ha questo di bello rispetto alle altre forme d'arte che gioca molto sulla fascinazione, sulla suggestione. Noi quest'anno abbiamo cercato di dare una programmazione che valorizzi questo aspetto al massimo. Ecco, quali sono alcuni dei titoli più importanti del cartellone? I titoli più importanti del cartellone sono Argo vincitore del premio Oscar 2000 di quest'anno e la grande bellezza, il grande Gatsby, è strano che quest'anno il cinema, il grande cinema abbia investito su questo aggettivo, cioè grande. Poi abbiamo Noi, i giorni dell'arcobaleno che è un film molto importante che è uscito da poco. Poi abbiamo il caso dell'anno, Viva la libertà, vincitore del David come miglior sceneggiatura. Abbiamo Viaggio sola, che è un altro caso cinematografico italiano di Maria Sole Tognazzi e tutta una serie di altri titoli, il Principe Abusivo ad esempio, che è un film che ha fatto molto divertire. Abbiamo visto inoltre che si sta pensando a cercare di legare ancora di più gli spettatori con registi ed autori, magari facendoli incontrare e facendo scambiare loro qualche battuta e opinione. Sì, gli ultimi due o tre anni sono stati stagioni importanti per il cinema italiano. Il cinema italiano sta veramente diventando, sta ritornando ad essere importante all'estero, vince molti premi. Allora, d'accordo con l'amministrazione, la strada che vogliamo intraprendere è proprio quella di far incontrare il pubblico italiano con i protagonisti della cinematografia italiana che non sono molto conosciuti, molti sono giovani, opera prima, opera seconda, però ci interessa aprire questa collaborazione che vada a beneficio da una parte degli autori e dall'altra del pubblico. E dopo l'ampio servizio sul cinema passiamo alla musica. Stasera alle 21, infatti, si prosegue con la rassegna di musica etnica diretta dal Cantiere della Musica e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio, giunta alla sua undicesima edizione. Di scena c'è Valentina Ferraiolo, apprezzatissima suonatrice, che presenterà il suo vasto repertorio dei brani della tradizione del centro-sud Italia, arrangiati con le tecniche di esecuzione tipiche del nostro paese. Bene, adesso lasciamo spazio alla pubblicità. Ci vediamo subito dopo con la pagina comprensoriale.